Il partito hanno dimostrato però di essere dei combattenti, certo poi alla fine non è bastato, che partita si è giocata oggi Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali, evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale, una strategia che alla fine è balza loro la vittoria.